ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast corriere c'è come al solito vi faremo compagnia per qualche minuto della vostra giornata e vi racconteremo le news più importanti dal mondo ciao amiche e ciao amici benvenute e benvenuti in questa ennesima puntata firmata corriere c'è del nostro podcast ciao a voi che ci state guardando in video ma ciao anche a voi che invece ci state semplicemente ascoltando come podcast lo avete visto il tema di oggi è bello frizzantino ci sono un sacco di cose che ci dobbiamo e ci possiamo raccontare ma prima di farlo come al solito devo ringraziare i miei due colleghi in primis Andrea Capararelli senza il quale queste dirette insomma non potrebbero andare avanti perché ci gestisce tutta la parte video e poi vado dall'altra voce dall'altra penna dall'altro amico dall'altro collega insomma i complimenti si spregano in questo podcast Guglielmo Ferrazzano grazie Luigi grazie al pubblico grazie Andrea senza il quale non esisterebbe pianeta terra questo questo credo sia sia scontato ma comunque scherzi a parte Guglielmo oggi ci sono un po di cose interessanti che ci possiamo raccontare perché la settimana scorsa è ritornata è uscita fuori per l'ennesima volta una notizia un evergreen una notizia evergreen che ogni tanto ritorna viene rilanciata dalle varie testate nazionali che però noi questa volta a dispetto di quello che si possa pensare abbiamo deciso di approfondire e vogliamo raccontarci due cose allora la notizia che è venuta fuori il 19 maggio riguarda una statistica che fotografa un po la situazione dei giovani quali giovani ragazzi di 15 anni quindi adolescenti pare che leggendo questi dati il 51 per cento degli adolescenti quindi dei 15 anni meglio dire da dei 15 anni in fascia di adolescenza non comprende un testo in italiano questo è il classico articolo che viene fuori più o meno una volta all'anno di eventuali studi che mettono un bel tracciato una bella sottolineatura sull'ignoranza degli italiani in realtà non non è proprio così perché grazie ai ragazzi di pagellapolitica.it con un'attività di fact checking abbastanza ricca di dettagli siamo riusciti a capire facendo ovviamente anche una lettura incrociata di vari articoli che fondamentalmente il dato è stato un po diciamo confuso perché c'è un problema di dispersione scolastica cioè ragazzi che abbandonano la scuola e sono in età scolastica c'è un problema di dispersione scolastica implicita cioè il fatto si configura quando una persona pur terminando un percorso di studi non ha le competenze minime riguardo alcune materie ad esempio italiano e matematica e a volte mettono in mezzo anche la lingua straniera quindi ci sono questi due dati in realtà si comprende che il 44 per cento ragazzi e ragazze che hanno terminato le scuole superiori quindi tra 18 e 19 anni hanno delle difficoltà con la lingua italiana il che non significa non comprendono veramente un testo perché ci sono vari livelli di comprensione potrebbero fare di meglio il 51 per cento di questa di questa ragazzi raccolti nella nell'indagine dei deconi dati invalsi hanno difficoltà in matematica sì quindi il dato è stato un po confuso ma avere delle difficoltà non significa essere incapaci di comprendere davvero un testo oppure di essere come dire proprio al di sotto dello standard minimo previsto dai livelli scolastici quindi diciamo un po la statistica è stata lanciata senza i dovuti approfondimenti o meglio dire è stata un po confusa ma in realtà i dati se letti bene fotografano una situazione certamente non rossia ma nemmeno tragica e quindi la puntata di oggi fondamentalmente era un po a caccia tra notizie incorrette e fake news questa qui non è una notizia incorretto fake news è stata semplicemente una notizia trasmessa incorrettamente sì infatti perché ricordiamo insomma qualche giorno fa mi pare la notizia fosse del 19 forse l'hai detto 19 maggio insomma il titolone è stato parliamoci chiaro è stato un titolone è bello grosso bello clickbait c'è che dire un ragazzo su due in italia non capisce quello che legge insomma è una cosa è una cosa bella bella importante quindi era doveroso fare questo approfondimento perché come al solito ci sono diversi livelli di lettura delle notizie ma soprattutto ci sono diversi livelli di approfondimento delle notizie come ci hai giustamente illuminato tu anche oggi per l'ennesima volta ci sono un po di cose che andavano chiarite in maniera abbastanza precisa diciamo che quando si tratta di queste notizie che hanno un forte risvolto emotivo bisognerebbe un po fermarsi e fare una riflessione o fare una lettura incrociata perché non sempre vengono trasmesse le notizie in maniera corretta a volte purtroppo si cavalca l'onda delle emozioni e questa è a cascata a livello nazionale quindi ci possono cascare scusatemi il giro di parole anche le televisioni detto ciò però continuiamo con un'altra notizia sì che suscita un po di dubbi ma è una notizia genuina perché basata sui numeri i commenti sono i vari disparati cioè che per il concorso in magistratura che ha tutta una sua difficoltà ovviamente su circa 2.700 3.000 candidati non c'è il numero definitivo qui se mi aiuti magari lo recuperi praticamente sì in realtà il dato che abbiamo noi è quello che stai per dire adesso cioè che solo 200 candidati accederanno alla prova orale perché secondo la commissione ci sono carenze di diritto di grammatica è una povertà argomentativa ora un po il punto interrogativo c'è perché poi è nato tutto un dibattito riguardo le università che promuovono facilmente dell'impreparazione delle persone però un po un punto interrogativo c'è questo qui è dato proprio da molte persone quindi vi ripetiamo quello che è già stato detto nei commenti da tante altre persone e cioè che se su una platea di professionisti che accedono non solo al concorso in magistratura ma in generale tutti i concorsi un po nazionale ci sono delle sciambolate questi catene di bocciati di rinviati o di persone che fanno ricorso un po il dubbio viene ma sono tutti incompetenti perché l'abbiamo visto col concorso docenti di poco tempo fa 90 per cento di persone non hanno superato ti do un dato in più per la classe a 50 su credo qualche migliaio di aspiranti in campania hanno superato il concorso meno di 45 persone cioè sono dati che fanno un po riflettere su su cose abbastanza serie cioè sull'effettiva configurazione di questi esami di questi concorsi e dall'altra poi sull'effettiva preparazione perché comunque va detto può anche essere che la preparazione dei candidati non sia sufficiente però che se su migliaia di persone che ogni anno fanno concorsi test e quant'altro superano sempre una soglia minima insomma un po in rete c'era il dubbio questo era il sentore vabbè sì segniamoci che poi faremo un bel podcast su come sono organizzati oggi i concorsi in italia perché probabilmente potrebbero essere delle informazioni utili a qualcuno che ci ascolta poi in ultimo questa è la settimana della prevenzione delle malattie tiroidee e come tutte le settimane di prevenzione o giornate di prevenzione c'è ovviamente la parte di informazione quest'anno in realtà per quanto riguarda la parte tiroidea eccoci qui dalla tiroide si è insistito molto sulle fake news e sul spingere le persone a frequentare quelle testate quei giornali che abbiano in generale un buon livello di credibilità ma soprattutto che riportino dei dati perché a volte per via di informazioni mal miscelate si corre il rischio di sottovalutare delle cose importanti soprattutto riguardo alla salute ad esempio in italia si è sempre detto consumare poco sale ma quello io dato è in quantità appunto compatibili mai nessuno ha detto togliete il sale completamente di torno a meno che non ci siano situazioni mediche particolari e in italia viene fuori che il 30% delle persone inquadrate da questo studio da queste statistiche non consuma il sale per decisioni che hanno a che vedere un po' con le notizie che circolano con la diffidenza e quant'altro invece dalla scienza ci arriva l'informazione che potevamo raggiungere anche riflettendo poco ma buono e quindi in questa settimana si va piano piano a smontare tutti quei falsi miti sulle malattie tiroidee e sul consumo di alimenti a tar riguardo quindi è un po' una settimana di raccolta tra fake news, commenti e riflessioni dove anche agli altri media pubblicano piano piano notizie su come difendersi dalle notizie false sembra un po' la settimana della riflessione esatto sì esatto infatti ti volevo dire che insomma ancora non ci abbiamo pensato siamo sinceri però il titolo di questo podcast ha a che fare con le notizie con la veridicità delle notizie su quanto sia importante poi andare a verificare tutte le fonti tutte le notizie che vengono riportate insomma vi abbiamo portato dal mondo della scuola alla cultura, ai concorsi, alle malattie tiroidee insomma però la base comune a tutto è che le notizie vanno sempre verificate e soprattutto con un certo grado di approfondimento altrimenti insomma riportiamo notizie false, si riportano dei dati falsi e come al solito si crea confusione ma veniamo da due anni di infodemia quindi insomma qualcosina dovrebbe essere abbastanza chiaro Guglielmo io credo che tu non abbia altre cose da doverci raccontare quindi grazie come al solito ci hai fornito dei dati sicuramente utili noi come al solito vi ricordiamo insomma che nella descrizione del podcast del video su youtube o comunque insomma su facebook dove andrà a finire questo prodotto che abbiamo appunto prodotto perdonatemi il giro di parole vi daremo tutte le informazioni tutti i link dai quali poi traiamo queste nostre conclusioni e vi raccontiamo questi fatti grazie Guglielmo come al solito grazie ad Andrea Caprarelli alla regia che come al solito ci dà veramente una grossa mano io vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordiamo seguiteci su tutti i social partecipate scriveteci nella sezione commenti qualsiasi cosa qualsiasi dubbio tanto noi vi leggiamo leggiamo tutto se avete anche delle richieste fatele senza alcun tipo di problema vi ringraziamo per averci visto in video ascoltato in podcast e noi ci rivediamo alla prossima puntata come al solito firmata Corriere c'è